Se l'attesa di Valorant fosse stessa l'attesa dell'annuncio della World Cup di Fortnite Guarda che ora stiamo vivendo, ne parlavo ieri Un momento che si può considerare la guerra fredda dei videogiochi Perché la guerra fredda dei videogiochi? C'è un momento di stallo C'è un momento di stallo nel mondo dei videogiochi Negli sparatutto specialmente Se vedete ci sono poche news, pochi update, poche informazioni Viviamo in un momento in cui alcuni sono spaventati da Valorant E quindi si stanno tenendo gli assi nelle maniche Da sfoderare per Valorant Perché molti hanno paura che prendano i loro player Che giocano al loro gioco Infatti Valorant più che prendere come la gente pensa Valorant che andrà a rubare player da Counter Strike Ma la gente non si rende conto che Valorant non prenderà tutte quelle persone da Counter Strike Perché esiste già Counter Strike Una formula vincente da 20 anni più o meno Poi non lo so quando è uscito Counter Strike effettivamente Praticamente quello che accadrà Ora quando verranno rilasciate più informazioni su Valorant Tutti i giochi ora, da oggi, cominceranno a fare news Avremo il Battle Royale di COD Avremo nuovi aggiornamenti di Fortnite Parleranno delle competizioni di Fortnite E ora ci andiamo a vedere Valorant Ci sono una marea di gameplay e di altra roba in giro che sono usciti Sta una competizione Queste sono le guerre che ci piacciono esattamente Però io me l'aspetto Me l'aspetto così perché COD pure Troppo silenzio per questa Warzone Tutto nascosto Stanno aspettando il momento per rilevarlo Ora si dice che domani si rivelerà il Battle Royale di Call of Duty Ci sta Ma è la guerra fredda dei videogiochi Ci dobbiamo vedere qualche gameplay allora Allora Questa è già una cosa da farvi vedere Giusto per spiegarvelo velocemente Questo qui è il menu di Valorant Che è il nuovo FPS della Riot Il nuovo FPS competitivo a squadre 5 contro 5 Con dei vari eroi, leggende, campioni Come li volete chiamare voi Sono 8 in totale Si dice che usciranno Il gioco sarà completamente gratuito Disponibile all'inizio su PC Ma già sono usciti oggi Rumors Che verrà poi implementato su PS4 Xbox One E Nintendo Switch Il gioco è molto simile al CSGO come stile 5 contro 5 ha obiettivi Si dice che non ci sia solo la modalità Stile cerchi e distruggi Permettetemi Terrorist contro counter terrorist Di CSGO per chi viene da CSGO All'interno del gioco c'è un'economia Quindi in base alla performance in game Vittoria, sconfitta, morte, uccisioni, assist e così via Si acquisiscono, scusatemi, dei soldi Una moneta in game E questa moneta si può spendere su questo menu Cosa comporta questo menu? Che si possono comprare armi Come vedete Sidearm Quindi le armi secondarie SMG AR Sniper E poi quelle che sono le EV machine gun Cioè i mitraglioni E anche gli scudi Vedete scudi leggeri Scudi pesanti Oltre a questo però C'è da spiegare una cosa Perché ci sono 8 personaggi 8 personaggi cosa vuol dire? Che ogni personaggio avrà delle caratteristiche uniche Caratteristiche che sono le abilità Tu in gioco hai delle abilità Però le abilità Da quello che ho capito Devono essere acquistate E hanno degli utilizzi Cioè tu non è che puoi comprare un'abilità E poi spammare la stecca E se muori ce l'hai di nuovo No, bisogna acquisirla Quindi queste abilità Rendono il gameplay Diverso dal classico Che si vede su CS O magari su Call of Duty Se volete permettere E infatti il gioco Tra l'altro C'è poi un'altra cosa a dire Che la vedremo più avanti Quando giocheranno Parlerò del recoil Spray e così via Quindi oltre a questo Si può anche fare C'è il fattore Quindi di comprare Di crearsi un loadout All'inizio All'inizio del round E anche di passare le armi E lo vedrete qui Quando vedi bite E compri l'arma Per il compagno Ecco come vedete Ok loro sono in difesa Ora vedete tanto qui La mappa che ha Tra l'altro Guardate 3 site A B E C Rispetto a Il classico Counter Strike Call of Duty Dove ci sono solamente 2 bomb site Non è l'unione Di Overwatch e CSGO Perché Overwatch È abilità Cioè ci sono eroi Che senza le abilità Sono praticamente inutili Molto più simile a CS Ok La cosa che vi voglio Far notare qui È che Guardate Questo è l'inizio Del round Quindi c'è una sorta Di pre round Prima dello start E c'è una barriera Che copre Dopo il bomb site Quindi dove si trova Dove bisogna Piazzare la bomb In modo da prevenire Rush ignoranti E cose del genere In modo che le persone Si possano setupare E così via Questa è una cosa Molto figa Che crea anche Un pochino più Di dinamismo All'interno del gioco Con la Q Se vedete qui sotto Ha fatto questa abilità Che fa saltare il personaggio Vi faccio vedere di nuovo Vedete E salta verso l'alto Il personaggio E come vedete Ha due utilizzi Chi gioca a CSGO Era sicuramente Molto avvantaggiato Su questo gioco Come vedete Non so se ci avete fatto caso C'è anche una customizzazione Del mirino Vedete i mirini Come sono diversi Da player a player Quindi si può Creare il proprio mirino A seconda di come ci piace di più Ecco un'altra cosa Che bisogna farvi vedere Ed è Ed è questa Le armi Possono essere messe In modalità EDS Cioè Aim Down Sight Cioè Mirare con le armi Per chi viene da CSGO Ci sono solo alcune armi Che hanno delle ottiche Qui praticamente Da quello che si è Percepito E capito Tutte le armi Hanno una modalità Praticamente In mira Alcune armi Cambiano Addirittura Come Sparano In modalità mira Per esempio C'è un fucile d'assalto Che non so se si vedrà In questo gameplay Che praticamente Cambia la modalità Di sparo Cosa vuol dire Cambia la modalità Di sparo Che se voi Mirate L'arma Al posto di essere Magari a raffica Spara raffiche Da tre colpi O da quattro O da cinque Quello che è Non so se è questo Il fucile Ma c'è un fucile D'assalto Che quando si va in mira Spara raffiche Da tre o quattro colpi E praticamente Queste Queste raffiche Sono più precise Rispetto allo spray normale Ma si può anche Sparare Senza mirare E' stato chiesto Diciamo Da alcuni Da quelli che L'hanno provato Come funziona La modalità di sparo Senza mirare Il cosiddetto Hipfire Chiamato Praticamente Se si è in movimento C'è un hipfire E però esiste Anche lo spray Dell'arma Come a CSGO C'è uno spray pattern Vuol dire Che ci sono Degli spray Predefiniti All'interno del gioco Che uno può masterare E imparare a controllare Come magari la K O l'M4 Di CSGO Per chi lo conosce In questo modo Sono apparentemente Controllabili Ma In movimento Lo sparo Diventa Un 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 hipfire Cioè Un comment Praticamente Il bloom di forno E ti colpi Hanno una casualità Non so se mi sono spiegato Anche quando ci mira Si mira C'è questo spray Penso proprio di sì It's shine Penso proprio di sì Se no non avrebbe senso Ovviamente tutte le armi Hanno rinculo Tutte le armi Hanno rinculo Ragazzi Abilità varia Abilità varia Ecco Questa è un'abilità Del personaggio di prima Che con l'arco Un pochino come Anzo Di Overwatch Dà la possibilità Di scannerizzare Un'area E vedire Li sa come dei personaggi Come Anzo Di Overwatch Questo personaggio E qua dovrebbe essere Vedete? Vedete l'arma A quel colpo Non va precisamente dritto? In full auto? Questa è una sorta di smoke bomb È una sorta di smoke bomb Quella che avete visto Utilizzare qui Da questo personaggio Questa è la sua ulti Che ha Vari utilizzi Questo personaggio Come ultima età Mouse 1 Che può tirare I singoli kunai E sembrano one shotare O praticamente Con quello che dovrebbe essere Il click destro Rilasciare tutti i kunai assieme Ah Per chi lo chiedesse Tutti i personaggi Hanno la stessa mobilità E le stesse hitbox Ok? Non variano A livello Di hitbox Velocità Movimento E così via Ok? Il drone Allora Allora qui è stata piazzata la bomba E questo qui è un'abilità Praticamente Di un personaggio Questa ultimate crea una zona Di decadimento Dove praticamente La vita ti si abbassa Ma non ti uccide Ti mette One shot Ok? La bomba viene piazzata Questa zona Dove non si vede bene Che accade Lui esce fuori E guardate la vita Che si rigenera La vita si rigenera Ma Guardate bene Non si capisce Se viene colpito O no Allora sicuramente Quello che sembra Atterra è un'altra abilità Infatti Gli fa danno Agli scudi Vedete 48-31 Ed è costretto a uscire Però la vita Poi si rigenera Una volta uscita Quindi la domanda è La vita all'interno del gioco C'è una probabilità Cioè come si può dire Ti si rigenera nel tempo O è solo dovuta Al decadimento Di questa abilità Io penso che sia una cosa Dovuta al decadimento Di questa abilità E sia come CSGO Che non puoi curarti Praticamente A meno che non abbia Un personaggio Con abilità curative Perché c'è un personaggio Con abilità curative All'interno del gioco Ora ceccano Con il dart Con il dart Questo qua Per scannerizzare l'aria Vedono dov'è l'avversario Allora Quello che hanno messo Ora è stato acceso Da uno col pompa Quello che ha lanciato per te Che è lo steampack Dovrebbe essere un elemento Curativo Cioè una sorta di Zona Dove ci si può curare All'interno la vita Col pompa Una strage Un bad shot E ora il defuse Ora droppa l'arma Per raccogliere Quello che è il Cecchino Da per terra Perché ha un alto costo È one shot Da quello che si è visto Un pochino simile All'avp di CSGO Se non proprio L'avp di CSGO E quindi Pure per un fatto Di spendo Cioè dato che è un'arma Molto costosa Droppa il suo AR Per prenderlo L'apo ragazzi A spiegare È un mostro Quindi ce l'andiamo a vedere Valorant È un gioco free to play Spara tutto In prima persona Ogni partita Ha 25 round Il primo team Che arriva a vincere 13 round Vince la partita Quindi best of 25 I giocatori selezionano Un agente Con abilità uniche Tra scatti in avanti Creare muri Lanciare fumogeni E tanto altro Qual è la modalità Principale di Valorant? Come su CSGO La modalità principale È disinnesca Un team deve piantare Una bomba E un team deve disinnescarla Il team attaccante Ha la bomba Chi difende Deve disinnescarla A metà del match Si cambia lato Il round Si vince Se la bomba Viene disinnescata Se viene fatta esplodere O se elimini Tutto il team avversario Lo metteranno L'overtime Ci sarà una storia? Si La storia sarà ambientata Su una terra del futuro Non molto lontano Con un evento Cataclismico Che lancerà Nello scompiglio L'equilibrio globale Che conosciamo ora E facendo nascere Gli agenti Individui Dotati di capacità Straordinarie Quando posso giocarci Quest'estate Ma ci sarà una Closet beta Prima di allora Ma non si sa ancora quando Posso cambiare personaggio Durante la partita? No Una volta che lo scegli Rimarrà fino alla fine Del match Il tuo personaggio Quindi capito La domanda però Che mi faccio io È Si possono avere Due personaggi uguali E cosa Capito Questa è la domanda Che mi faccio Si possono avere Due personaggi uguali Nella stessa squadra? Non penso Però È una possibilità Quindi se scegli un attaccante E poi vai nel turno di difesa Sarai in leggero svantaggio Come ottieni armi Abilità su Valorant? Le armi vanno comprate All'inizio di ogni round A meno che non sopravvivi A round precedente In tal caso Terrai le armi Che già possedevi Quasi ogni arma Ha il potenziale Di ucciderti Con un solo colpo Se sai mirare bene Alla testa Alla testa Allora Non è proprio vera Questa cosa Non tutte le armi Ammazzano Alla testa È stato confermato Da alcuni giocatori Che l'hanno provato Solo alcune armi Uccidono Alla testa Non tutte Quindi Dipende dall'arma Dipende dagli scudi Del personaggio Quante mappe ci sono? I giornalisti Streamer Youtuber Ne hanno testata una Ma al lancio Ce ne saranno quattro Verranno aggiunte mappe agenti Sì Le mappe con una cadenza bassa Per mantenere lo standard Qualitativo altissimo Gli agenti Dipende molto Da come l'agente Accoglie i primi 12 agenti Che arriveranno 12 in non 8? Io ho letto 8 oggi ufficiale Bisogno skin del gioco? Sì Per le armi E potrei comprarle direttamente Sia una skin singola Per un'arma Che un'intera linea tematica Di skin per un gruppo di armi Per quanto riguarda le lootbox Hanno detto che Ci stanno ragionando sopra Ma per ora Non le inseriranno Ci sarà un battle pass? Sì Verrà incluso un sistema Di battle pass Ma non ci sono dettagli In merito Ogni arma ha un suo costo Puoi vedere qua Sul lato sinistro Il fatto che Puoi vedere l'equipaggiamento Di tutti i tuoi compagni Se hanno scudi o meno Ma è anche figo Il fatto che puoi andare A raccomandare Ai tuoi compagni Esattamente Demarker Come se comprassi Le flash Le molotov Le granate su CSGO Infatti E' questo Il vero e proprio Core del gioco Che le abilità Sono un pochino Le utilities Di CSGO Ok E' così Io questo gioco Lo vedo come una rivisitazione Di Counter Strike Ecco qua Fa vedere molto velocemente Questo si chiama Combat Report Qua sul lato Ma questo non l'avevamo notato prima Tu sei riuscito a fare Nei confronti di un avversario Sei riuscito a fare 156 danni Infatti hai colpito 4 colpi Nel petto Ad un avversario E di conseguenza L'hai eliminato E non ne hai subito Da parte sua Qua invece hai fatto 24 danni Al tuo avversario L'hai colpito Una singola volta Al petto E l'avversario Ti ha colpito 7 volte Facendo 174 E qua vediamo Anche un'altra cosa Qua fa vedere Le hitbox Ci sono 3 hitbox 3 hitbox Headshot Bodyshot Che comprende Anche le braccia Quindi il torso Torace E stomaco E gambe Quindi probabilmente C'è un moltiplicatore Del danno Che probabilmente Sarà 1 per Quindi se fa L'arma fa 25 Ora ho tirato un numero A caso 50 A quanto fa Al petto Per esempio Alla testa Farà magari 2x 3x Dipende poi dal Moltiplicatore dell'arma Dal proiettile Dal calibro Cioè eccetera Mentre magari alle gambe Farà di meno Ragazzi Il gioco Vi potrà girare Su pc Anche sui frigoriferi Quelli della samsung Con lo schermo Cioè ho visto le specifiche Le hanno già rilasciate Sono delle specifiche Ragazzi Ridicole Cioè l'apple watch È più potente Praticamente Lo dice Lo dice allora Per dirvi I requisiti consigliati Per averlo a 60 frame Al secondo Sono un intel I3 4150 Quanto costa un i3 4150 Allora ragazzi Un i3 4150 Nuovo Con la garanzia pure Quindi proprio non usato 30 euro Più spedizione Quindi pensate un pochino 30 euro Scatagrafica Che è una cpu Di Boh Sei anni fa Non mi ricordo Neanche quando è uscita GPU J force GT 730 Questo è per 60 frame Al secondo 44 euro Quindi ragazzi Praticamente Con 250 euro Proprio per esagerare Di pc Ci potete giocare A 60 fps Sto esagerando Con 250 E comunque Come avete visto Voi potete giocare A questo gioco Veramente con un pc Che è in tosta pane Cioè la lavatrice vostra Secondo me è più potente Del pc Per far girare A questo a 60 frame Io però ho altre cose Da dirvi Io ho altre cose Da dirvi sul gioco Sul sistema di movimento E di sparo Perché molti di voi Non ci hanno fatto caso Non hanno notato Una cosa Sì è ovvio Per essere precisi Bisogna sparare da fermi Però c'è una cosa Allora questa è una cosa Che ho notato Gioendo a counter strike Allora la prima volta Che ho giocato a counter strike Io ho notato che Quando tu ti muovi Avanti Indietro Destra Sinistra Il tuo personaggio Quando rilasci Il tasto Continua per un breve periodo Nell'ultima direzione Che hai premuto E ovviamente Su counter strike Mi ha detto Che è come se Devi dare un contraccolpo Nella direzione opposta Per bloccarlo Ed è la prima cosa Che ho notato A counter strike Perché mi chiedevo Scusami una cosa Ma quindi io Durante quel piccolo Al suo tempo Se io lascio Che ne so Mi muovo a destra Quindi sto tenendo premuto D Lascio D E sparo Il colpo però Non va dritto Proprio perché C'è questo slittamento Bisogna dargli Il contraccolpo Praticamente Questa cosa Su Valorant Non c'è Le altre domande Ci sarà la possibilità Del stretch Come se ci sarà Un fov E tutte queste cose Voi che cosa ne pensate Invece